Le problematiche scolastiche, la buona sconsiglia è buona. Presidente, io l'altra volta mi sono permesso di dare una mia richiesta a tutti i suoi casi, perché io non mi sento il proprio senatore, e ancora una volta lei dimostra la mia capacità che darà un ricorso della sua maggioranza, quindi io richiedo un punto dell'aculità, lei quando ci dimette? Ovviamente fuori tema, e quindi non è assolutamente lonteggiore, lo posso sapere quanto prima ho delegato. Andiamo avanti, l'informazione del momento del diritto che ho prescoltato, non si ha quell'itacito con il diritto, ovviamente. Allora, dato che il consigliere dice, devo dire, intervento del consigliere bobo, non era a cliente a trago a un cliente del choco. Quindi, celebri intervento del consigliere, è un consigliere, su trate a un cliente del choco. Persegare, che lo pietra, no, a proverso il loro e lui dice, a ver, a ver, a ver, a ver, consigliere, a ver, consigliere la tabla. Anche perché me ne sono in servizio, per lei, è scusa. Io sarò del primo, dovevo solo fare in mani che sono tutti il consiglio, che, quale per poter perdere la condizione affari sociali, con la cultura, ho avuto, diciamo, la possibilità di approvare, inserito, i colleghi, i consiglieri, tutti e due i regolamenti, anche quello che mi ha successo. C'è l'utilizzo delle regolamenti morali e intervento scolastiche e il regolamento della preteca comunale. Volevo sottolineare questo, il grande senso di responsabilità che ha avuto tutta l'intera commissione, compresi i consiglieri di minoranza, che hanno avuto un senso di correttezza istituzionale. E questo mi ha risposto dalla società. E quando i provvedimenti vanno in intervento della collettività, non ci sono steccati, che c'erano i provvedimenti che adesso non hanno avuto approvati all'unanimità, anche perché ho avuto la possibilità, ho avuto la possibilità di avere un contoglio semplice, pacato, con tutti i consiglieri che componevano e che componevano giunto nella commissione, e che quindi i due provvedimenti sono stati di gestione dalla commissione all'unanimità. Tutti hanno avuto la possibilità di portare i buoni contributi e io ho il piacere in questo senso di vedere questi provvedimenti che sicuramente saranno approvati dal Consiglio. Grazie. Grazie a voi, signor Andrano, però consiglio. Grazie.